Non per la parata di Piaudice, ma 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 per la parata di Piaudice. Si, no, e si è fatto una parata, sono contento perché così ho fatto sì che la squadra potesse cercare la vittoria, perché se avessimo preso golla sarebbe stata una bella beffa, però io penso e faccio complimenti a tutti i miei compagni di squadra perché abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo fatto un ottimo gioco, abbiamo cercato di rinunciare la partita, quindi ci rimane un po' di delusione per il risultato, però sicuramente la prestazione che dobbiamo far tesoro e tenere dentro di noi ci deve dare più sicurezza per le partite. Il partire, quanto ha avviato, bisogna prendere il primo tempo, l'ha fatto da spettatore, è la prima occasione di questo gioco. Sì, è il gioco, nel senso ci sono partite magari che si è impegnato all'inizio, magari se è disoccupato il primo tempo, poi magari anche il secondo, poi dopo ti tocca fare una parata importante per tenere la squadra viva e se è il nostro mestiere cerchiamo sempre di farlo al massimo. Quindi cambia qualcosa? No, sicuramente le potenzialità della squadra ci sono, ma non c'è che abbiamo dimostrato, abbiamo tante occasioni da giocare. La squadra ha dimostrato di voler centrare la vittoria, quindi questa è una cosa importante per la squadra, perché viva. Grazie a te. Grazie a te.